la cella di stagionatura, esattamente, qui ci sono i nostri salumi che stanno maturando di varie produzioni. Quindi tu sei uno dei pochissimi produttori in Italia, possiamo dire, ci sono ancora i nostalgici, però, che utilizzano assolutamente salumi al naturale. Che significa? Significa che non utilizziamo chimica, significa che sulle nostre etichette questa è una soppressata, troverete ingredienti, carne, carne e suine, sale e pepe, non c'è altro, assolutamente niente. Quindi niente nitriti, nitrati, né nitriti, né nitrati, né lattosio, né glutine, nulla. Comunque questo è un laboratorio asettico, perché non ci sono altri tipi di trasformazioni che potrebbero contenere nessuna contaminazione, né diretta, né indiretta, né crociata, niente, assolutamente niente, perché utilizziamo solo e esclusivamente carne di maiale, stiamo attenti anche il personale, ovviamente, perché chiaramente quando si fa la pausa caffè magari viene fatta fuori, ci pulisce in maniera, non c'è nemmeno rischio di contaminazione. Quindi possiamo dire che l'unico conservante che c'è è il peperone, il sale, la polvere di peperone. Il peperone ha una doppia funzione, oltre che aiuta nella conservazione, è un antiossidante naturale. Il peperone è ricco di antiossidante, esattamente, per cui è un antiossidante. La sassiccia soppressata che non c'è, il peperone, c'è il pepe che è un antibatterico, quindi... Vedo che, cioè io poi la conosco, li conosco bene i tuoi salumi, anche la sassiccia dolce, per esempio, è anche un colorante naturale, perché la sassiccia dolce, se la vedete al taglio, poi ve la faremo vedere, sembra piccante, tutti, quando la faccio assaggiare dicono ma è piccante? Perché si tende ad associare il rosso al piccante, ma esiste anche il peperone. Invece la soppressata, perché non ha il peperone, è più scura, perché appunto non ha il peperone. No, no, più scura no, è più chiara sostanzialmente, anche perché si usa anche... Meno rossa. Meno rossa sostanzialmente, perché si usa anche carni più nobili rispetto ad una sassiccia. Una sassiccia, per esempio, ci va dentro la spalla del maiale, ma nella soppressata assolutamente no, va messo il carré e va messo il prosciutto, la coscia. Quindi, questo era il salume dei nobili, la sassiccia, la lucanica, come per i borghesi, e poi c'è il pezzente, il salume dei pezzenti. Sì, esattamente, questo è il pezzente della montagna materana e il presidio soul food, quindi rigorosamente senza nitriti e senza nitrati, da disciplinare di soul food, che io mi attengo a questo disciplinare, rigorosamente banditi, zuccheri, nitriti, nitrati, conservanti in generale. Sono bambini, naturali, peperoni, di semi, semi di bocchietti servati e un pizzico d'alto. Assolutamente niente di chimico, su questo posso garantire. Grazie. 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 Grazie.